Hanno attraversato strade di campagna sia verso la città murata di Pizzighettone sia dall'altra parte della provincia verso San Giovanni in Croce. Piloti provenienti da tutta Italia, un parterre davvero ricco di iscritti, anche quest'anno belle novità per la ventunesima edizione della tradizionale gara di campionato italiano regolarità per autostoriche. Fa parte del campionato italiano di regolarità autostoriche, quindi fa parte, è una delle dodici gare che ci sono in Italia per la definizione del campione italiano di regolarità autostoriche. Le auto hanno portato a termine una vera e propria maratona automobilistica. Dopo 100 prove cronometrate, quindi un numero molto elevato, vedo che i concorrenti arrivano abbastanza approvati sia dal caldo sia dalla difficoltà delle prove che noi abbiamo cercato di organizzare in modo che adesso proprio l'adrenalina a questi concorrenti e potessero dare soddisfazione a questi che stanno arrivando e a dare proprio un'emozione che poi si terranno dentro per tutto l'anno. Perché questa è una gara che molti partecipanti arrivano proprio per... è una sfida, è una sfida perché è molto più difficile di tante altre gare in Italia e quindi ognuno mette la propria capacità, la mette proprio a una sfida contro se stessi. Molte macchine parteciperanno ad altre gare in programma prossimamente. Dietro di me c'è una bellissima auto del 28 che è una Lancia Lambda Casaro, quindi una macchina bellissima, una macchina di valore, una macchina molto difficile da guidare e ciò nonostante i proprietari hanno ritenuto proprio partecipare a questa gara per cercare di affinare le proprie sensazioni proprio con questa macchina per prepararsi poi a Mille Miglia. Un fine settimana dunque all'insegna della tradizione, della storia ma anche della competizione.